Bene amici, oggi sono uscite tante tantissime disposizioni di pagamenti Inps per la prima decade di febbraio. Naspi, ufficiale, bonus 1000€ onnicomprensivi, la Social Card, il REM che invece sonnecchia ancora un po', RDC, poi alcuni aggiornamenti sulla CIC, bonus bebè, ANF dei comuni e tanto altro. Io sono Mr. Lul, sigla, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video del canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Allora, partiamo con le pensioni di marzo, sapete che siamo ancora in attesa dell'ordinanza di Borrelli, appena pronta mi farà sapere e io di conseguenza farò sapere a voi. Invece è la Naspi la sorpresa della giornata, prime disposizioni già uscite per l'otto come potete vedere, questa è la disoccupazione di competenza gennaio. Ovviamente fatemi sapere se vi sono uscite altre date, io per ora ho visto solo queste. Per quanto riguarda poi il bonus 100€ trattamento integrativo, vedrete che arriverà anche lui in questi giorni. E invece per la proroga della Naspi nessuna novità di rilievo, la crisi lo sapete rallenta tutto e quindi non sappiamo ancora con certezza chi rientrerà nel nuovo provvedimento di proroga. Reddito e pensione di cittadinanza, ne parleremo per bene appena riceverò la conferma dal dottor Bianco. Se la ricarica del 15 non è in dubbio in nessun modo, per quella di fine mese vi farò avere la data precisa, visto che il 27 è sabato, sono in attesa di conferme. Bonus bebè, il pagamento di gennaio scatta ancora da domani, 2 febbraio. Quello di febbraio invece vedremo verso la fine del mese. Le date però ragazzi variano da persona a persona, quindi controllate sempre il vostro fascicolo. Anf dei Comuni l'8 febbraio e la Social Card, che ci ha stupito l'altro giorno, con alcuni flussi partiti già il 29 gennaio. Non tutti però hanno ricevuto questa ricarica, quindi ci aspettiamo che ripartano quanto prima in questi giorni. Fondamentale come sempre ovviamente aggiornare l'ISEE. Ecco, reddito di emergenza, intanto mi scuso perché è supportato da Mail, IMSS, vi avevo detto che entro gennaio avremmo visto queste benedette disposizioni, ma è evidente che così non è stato. Mi sono esposto proprio perché è in possesso di comunicazione e conferma. Evidentemente c'è stato qualche problema e sto indagando per potervi dare le date corrette non appena possibile e speriamo che questo video porti bene e nel frattempo magari si sia già mosso qualcosa. Mi raccomando, controllate sempre il primo commento o la descrizione proprio del video perché se ci sono aggiornamenti li aggiungo lì mano a mano. Poi per la proroga invece dell'RM ad opera del nuovo Ristori V, insomma più di quello che ci siamo già detti la settimana scorsa non saprei davvero che cosa aggiungere. Poi come vedete ancora per le indennità onnicomprensive da 1000€ ci sono date per oggi, domani e anche per il 5 febbraio. In ultimo cassa integrazione, come dico sempre, fare previsioni non è possibile per quello che non ne parlo in tutti i video dei pagamenti e come confermato da Tridico pochi, pochissimi giorni fa, gli uffici previdenziali purtroppo impiegano da 2 a 3 mesi per processare e liquidare le domande quando non ci sono intoppi e tutto va bene. Questa è una vergogna che ci portiamo dietro da anni. Come vedete però qui abbiamo una disposizione per il 4 febbraio, insomma diciamo che le cose a rilento ma per qualcuno almeno si muovono. Detto questo io come al solito, beh, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale perché è importantissimo iscrivetevi al canale con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti quindi buona serata a tutti, alla prossima da Mr. Lul